Cari amici di Firenze, vi invito tutti al Barbiere di Siviglia, qui al Teatro del Maggio Musicale Fiorentino, una produzione divertente, scoppiettante, piena di brio, come dice Rossini, diretta dal maestro Daniele Gatti, quindi appuntamento al Teatro del Maggio Musicale Fiorentino con il Barbiere di Siviglia di Gioacchino Rossini. Ciao, un saluto e ci vediamo qui.